Una rissa è stata bloccata ieri sera dalla polizia in piazza Solferino a Termi. Due dei protagonisti egiziani di 18-21 anni sono stati fermati e arrestati. Entrambi hanno riportato ferite da arma da taglio e abrasioni al volto. Erano due gruppi che si stavano affrontando. All'arrivo della volante, con a seguito anche due cani poliziotto dalla questura di Roma, alcuni di loro sono fuggiti. Gli altri invece hanno continuato a tirar calci e a brandire bottiglie di vetro spaccate. I due egiziani, che sono stati arrestati per rissa gravata e lesioni personali, erano regolari.